I centri diurni a Gela in Sicilia saranno realmente aperti? Intanto la mia visita è qui per testimoniare la vicinanza a una famiglia che è stata una famiglia straordinaria perché aver conseguito il diploma per Samuele è stato un successo anche della famiglia. Noi come istituzioni dobbiamo stare al passo con famiglie come queste che decidono di andare avanti a volte anche contro le istituzioni e nonostante le istituzioni non si impegnano abbastanza. Per cui noi abbiamo voluto testimoniare con la telefonata di Matteo Renzi e con la mia presenza qui un impegno concreto sul tema della disabilità in genere ma sull'autismo in particolare e credo che Gela non può rimanere indietro rispetto ad altre comunità che su questo tipo di disabilità hanno fatto interventi importanti sia per la scuola che per il lavoro che per il dopo di noi. Quindi riuscire a realizzare un centro qui a Gela è un obiettivo che ci poniamo a strettissimo giro. Quando l'hai saputo la notizia che Samuele aveva conseguito il diploma qual è stata la sua prima reazione positiva? Mi sono emozionato perché spero che un giorno anche mia figlia si possa diplomare, è stata da scuola per cui vedere che un ragazzo come Samuele ce l'ha fatto e vedere anche una famiglia straordinaria che l'ha accompagnata in questo percorso di istruzione vuol dire che tutti possono farcela e quindi riuscire a creare queste condizioni credo che sia un impegno importante. Sottolineiamo l'impegno da parte del governo che c'è. Assolutamente sì, abbiamo fatto una legge sull'autismo in un paese in cui questa parola praticamente non si utilizzava, era quasi sconosciuta ai più. Abbiamo fondato una fondazione che io presiedo a livello nazionale, la Fondazione Italiana Autismo che si occupa di autismo e che sta cominciando a finanziare i primi progetti in tema di ricerca e di assistenza. Spero che uno degli interventi che finanzieremo come fondazione sarà proprio quello di Gela. Manderete anche l'impegno assunto con Samuele di fargli incontrare Gioriscotti? Assolutamente sì, poi la cosa che interessa di più a Samuele è l'assoluto per cui assolutamente manterremo l'impegno. Samuele c'è un impegno da parte del governo e c'è un impegno preciso preso con te, ti faranno incontrare Gioriscotti? Sì, e a Roma. Sei contento? Sì, sono contento con Giori e la Roma, preparo la valigia e tre giorni da settembre. Ma sei diventato una star oramai, ti cercano tutti. Sì, sì, ho cercato e ho molto sempre così genio, molto felice e contente. Assessore, c'è un nuovo servizio attivo al Comune di Gela attraverso il web. All'interno del sito del Comune c'è un nuovo portale, il portale Tributi, che consentirà ai cittadini di regolarizzare la propria posizione o comunque di versare i tributi stampando da casa comodamente l'F24. I cittadini potranno da casa andare a verificare quella che è la loro situazione relativa ad esempio al 2016 e nell'ambito di questo verificare se è corretto o non è corretto, laddove dovessero i cittadini verificare la non correttezza perché c'è qualche errore ad esempio per ciò che riguarda immobili o magari immobili ventuti o ceduti eccetera, può direttamente da casa apportare le modifiche, salvare la schermata, stamparsi il proprio modello. Sarà poi lente il Comune a verificare e controllare l'esattezza dei dati inseriti in modo tale che si evitano file spesso inutili di ore da parte di tanti cittadini buttati qui al Comune, francamente una cosa che trovavamo nel 2016 alquanto errata. Bene, ci sono diversi servizi appunto che sono attivati all'interno di questo nuovo portale del sito del Comune. E' però una cosa importante che all'interno della busta in cui verrà recapitata la bolletta della Tari per intenderci quella relativa ai rifiuti, allo smaltimento dei rifiuti e alla raccolta dei rifiuti, ci sarà la comunicazione dell'account, cioè ogni cittadino riceverà il proprio account per potersi collegare. A fine di semplificare ulteriormente l'approccio a questo portale, nello stesso tempo evitare di complicare la vita dei cittadini, abbiamo già inserito, quindi anticipando sotto questo profilo la possibilità di perdita di tempo in registrazione, abbiamo inserito per ogni cittadino la propria posizione ID e password al fine di accedere. Ma laddove per un motivo o per un altro ciò non dovesse essere perché magari non arrivi l'atario o roba del genere, in ogni caso si può facilmente bypassare sopra il problema attraverso una registrazione che praticamente impiega 30 secondi grossomodo. Qualora invece un cittadino si affide ai professionisti, quindi ai CAF o ai consulenti o commercialisti, saranno questi invece a caricare i propri clienti e poi a stipulare un protocollo di intesa col Comune per poter regolarizzare la posizione dei clienti? Sì, laddove ci sono cittadini che per un motivo o per un altro hanno difficoltà ad approcciarsi al sistema informatico, possono senz'altro rivolgersi a CAF, professionisti, sia essi commercialisti, sia essi ingegneri, geometri e quant'altro, i quali in seguito a quello che sarà e quello che è un minimo di protocollo di intesa collente, opereranno in nome e per conto dei propri clienti, così da dare anch'essi il contributo ai propri clienti. Ancora ci si chiede perché è stato cacciato dal Movimento 5 Stelle, la risposta arriva dal Meetup, che in una nota inviata dal Consigliere Comunale, la grillina Virginia Ferruggia, fa un escursus di quanto accade in città. L'incipit del comunicato redatto è composto da cinque parole, per il bene di Gela. Il Meetup sottolinea che l'improvvisazione e il pressapochismo con cui l'amministrazione affronta le quotidiane criticità di Gela, ci lascia del tutto essere fatti. In difesa di coloro che hanno offeso la giornalista Lucarelli, in nome di una falsa difesa della città, la compagine di governo inventa il nudismo tra carcasse ed animali e amianto. Non serve a nulla che la Commissione Sviluppo Economico suggerisca programmi strutturati per il centro storico, alla Giunta non importa. Meglio sbrigarsi a estrapolare qualche cosa marginale che sta nella proposta e si crea all'estemporanea degli ombrelli più cari del mondo. Il Meetup avverte, vedrete che a breve incolperanno la Commissione come incolpano i cittadini per i rifiuti, perché anche in questo caso a nulla serve che i comitati, i cittadini e le associazioni suggeriscano delle isole ecologiche per ottimizzare la differenziata. Si preferiranno sempre soluzioni che esporranno la città a costi sempre maggiori, oltre al danno sanitario e d'immagine sempre maggiore. Nella nota si legge ancora che tutti i piani strategici, le programmazioni, i piani di medio termine sono fermi come del tutto scuro e il futuro della città relativamente al bilancio e al piano regolatore. Un futuro radioso si prospetta invece per l'azienda che si occupa della raccolta rifiuti e che a quanto pare agisce incontrollata e legittimata al disservizio. È di pochi giorni infatti che è stato autorizzato il pagamento dei servizi aggiuntivi per più di 600.000 euro con ordinanza sindacale e contestuali decreti ingiuntivi. Per il resto, rimarca il meetup, improvvisazioni utili a sviare l'attenzione da problemi enormi che il sindaco ha deciso di non risolvere facendo un grande regalo a Caltacqua, Politecnica, Tecra, Eni, Presidente della Regione e altri. Stesso destino per le bonifiche dove con tutti i tavoli aperti, ironicamente, si potrebbe fare un negozio di mobili ai quali puntualmente si assenta notturno Eni e Regione in un continuo rimpallo. Ogni attenzione è centrata sull'inutile arrampicata sociale di gente che non si è mai attivata per il bene della città e che oggi invece la gestisce totalmente, mentre ci immaginiamo il sindaco che passeggia su una città distrutta con una bici elettrica comunale, sotto un cielo coperto da inquietanti, costosi ombrelli spaventapasseri, compiaciuto di avere tradito il movimento e una città intera. Preoccupandosi, ribadisce il meetup, solamente di regalare alla sua segretaria una riconferma senza interruzione di un posto di lavoro al comune che loro sperano possa diventare a tempo indeterminato. Chi in queste ore sta alimentando voci infondate sul servizio integrato dei rifiuti si qualifica come un artigiano di fandoni ad uso politico. Non ci sta l'assessore comunale all'ambiente Simone Siciliano che controbatte ad alcune illazioni sul settore di sua competenza. Le inesattezze costruite ad arte, ha continuato il vice sindaco, partono dal confondere il capitolo servizi con il capitolo canone. I servizi assimilati alla gestione dei rifiuti possono essere liquidati proprio perché è escluso il secondo. Sulle affermazioni relative all'ipotetica continuità amministrativa nello svolgimento dei servizi aggiuntivi per mantenere un adeguato livello di decoro della città, rimarco che gli stessi sono stati attivati subito dopo l'affidamento dell'appalto, già dall'amministrazione che ci ha preseduto nel 2015 e per i quali in settore arrivano regolarmente ogni mese le relative fatture per il servizio svolto di riassetto del territorio, indispensabile per colmare la grave abitudine di molti cittadini indisciplinati di conferire fuori dagli orari e dai giorni del calendario per la raccolta differenziata il cui costo nell'anno di gestione messinese è stato ridotto, riducendo al minimo il numero di interventi pur tutelando quella fascia di lavoratori che nel passaggio di cantiere aveva perso il posto di lavoro. La macchina della bugia, dice Siciliano, si nutre inoltre delle proroghe concesse la Tecra. La verità non detta è che quelle proroghe sono state volute dalla maggioranza dell'assemblea dei sindaci della SRR4 e solo perché ancora la regione non ha approvato i piani d'ambito la stessa società non può espletare una nuova gara. I fustigatori dell'ultima ora, ergendosi il ruolo di alti statisti che non parlano onestamente ai cittadini, ora farebbero meglio a sottolineare che i servizi aggiuntivi sono stati dimezzati per volontà di questa amministrazione comunale rispetto all'anno precedente e che solo grazie all'istituzione di un direttore per l'esecuzione del contratto che controlla il servizio, l'emergenza rifiuti che dilaga in questi giorni in tutti i comuni siciliani non ha avuto finora lo stesso impatto registrato con il mio precessore nell'emergenza dell'estate 2015. Ne si puntualizza il lavoro fatto per l'istituzione dell'Aro proprio nell'ottica di gestire un servizio di raccolta rifiuti ritagliato sulle necessità del territorio gelese o ancora gli sforzi negoziali con la regione per la dotazione impiantistica che permetterebbe di avere a Gera nel prossimo futuro degli impianti di trasformazione dei rifiuti a emissioni zero per la produzione di biocarburanti e dunque poter chiudere il ciclo dei rifiuti zero in discarica. Infine andrebbe dato merito alla redazione del regolamento per il servizio di raccolta differenziata. Evidentemente chiude siciliano l'obiettivo principale dei miei detrattori e delegittimare l'attuale amministrazione comunale, prescindendo dagli sforzi messi in campo nell'anno trascorso. Gela dovrà abbandonare il sogno di entrare nell'area metropolitana di Catania, che ricordiamo per portarla avanti ci sono volute due delibere consigliari e soprattutto l'intervento della popolazione con consultazione referendaria confermativa. Che cosa è accaduto ieri all'Ars? Sono stati bocciati con voto segreto gli atti con i quali si ridisegnavano i confini territoriali dell'ex provincia, i comitati gelesi non ci stanno. Liliana Bellardita di Gelensis Populus. Dal nostro punto di vista si è creato una sorta di braccio di ferro tra l'Assemblea regionale e la giunta. Mi pare che per partito preso l'Assemblea regionale bocci tutto quello che giunge dalla giunta. La motivazione sostanzialmente sta nel fatto che la prima commissione, e in questo l'Assemblea poi ha sposato questo pensiero, ha ritenuto che questi disegni di legge dovessero essere accompagnati da una relazione tecnica che in realtà spiegasse nello specifico quello che era la regolazione dei rapporti di natura patrimoniale, del personale, i rapporti tra dare e avere, tra tutti gli enti che erano interessati da questo passaggio. In assenza di questa relazione tecnica la prima commissione, così come anche ieri pomeriggio l'Assemblea regionale, ha ritenuto che questo passaggio fosse una sorta di salto nel buio. Bene, e adesso non ci potranno essere delle soluzioni alternative e soprattutto abbiamo notato la presenza assidua nei comuni interessati del Sindaco Bianco e oggi il silenzio invece è assordante. Oggi il silenzio è assordante perché io non sottolineo sempre che qualunque tipo di impugnativa governativa relativamente alla legge 15 del 2015 ha visto come promotore, anche se è un promotore tra virgolette occulto, l'anci nazionale per cui qualunque tipo di impugnazione da parte del governo nazionale nei confronti della nostra legge e qualunque battuta d'arresto si è avuta a seguito dell'interessamento del lanci nazionale. Non scordiamo che Bianco è la seconda carica più importante nel lanci nazionale. Certamente ci saremmo aspettati un suo interessamento maggiore, visto l'interessamento che lui aveva manifestato per avere la riaffermazione del principio della coincidenza del Sindaco metropolitano con la figura dei sindaci che reggevano le tre comunità, cioè Palermo, Messina e Catania, è all'indomani dell'ottenimento di questo. Bianco è come se si fosse dissolto. Franzone è bocciata ieri all'Assemblea regionale siciliana il ridisegnamento dei confini dell'ex province, i comitati non ci stanno, chiaramente non accettate questa votazione peraltro con voto segreto. Adesso quali saranno preso atto della situazione le prossime strategie? Se c'è ancora, secondo voi, una speranza? Diciamo che non siamo per nulla stupiti di quello che fa l'Assemblea regionale. Ormai credo che non solo noi come comitati ma tutti i cittadini e non solo Gelesi ma di tutta la Sicilia abbiano capito cosa fanno i parlamentari all'interno del Parlamento regionale, di certo non più gli interessi dei cittadini siciliani. Dopo una scelta avvenuta attraverso due delibri consigliari e un referendum, il Parlamento regionale si arroghe il diritto di poter non far passare gli esami, i disegni di legge di variazione territoriale. Ovviamente questa non è la fine, ce l'aspettavamo, eravamo preparati a questo, di fatto avevamo diffidato sia il Presidente della Regione che l'assessore regionale alle autonomie locali e alla Landieri a non indire le elezioni perché noi già il sentore di quello che stavano cercando di combinare in assemblea regionale l'avevamo già. Bene, per noi non è cambiato assolutamente nulla, ci preparavamo ad imbugnare le elezioni dell'Ende Intermedio per bloccare appunto questa riforma e far sì che il passaggio di Gera, Piazza del Merina e Niscemi avvengano nel più breve tempo possibile e questo continueremo a fare. Siamo sulla retta via, come si suol dire. Mi sento di poter dire ai nostri concittadini ma anche ai cittadini di Niscemi e Piazza del Merina che, per fare un esempio magari banale, abbiamo per la prima volta il coltello da parte del manico. Questa è una scaramuccia fatta dal Parlamento regionale per cercare di intimidire e scoraggiare le popolazioni di questo territorio. Non hanno capito con chi hanno a che fare. Siamo gelesi, siamo piazzesi, siamo niscemesi e siamo soprattutto ben motivati. Il ricorso al TAR, quali motivazioni avrà, su quali argomenti sarà fondato? Sul fatto che nel momento in cui loro indicano le elezioni i territori non sono quelli previsti dalla legge 15 e quindi non è stato applicato l'articolo 44 della legge 15. A quel punto salta l'intero programma del Parlamento regionale, ovvero quello di togliere i commissari e indire le elezioni. Ci dispiace questo perché questo provocherà disagi alla gestione dei liberi consorsi di città metropolitane, ma la colpa non è nostra, la colpa va ricercata nella mancanza di democraticità dei parlamentari siciliani. Passa da Gela un pezzo della via francigena di Sicilia che un gruppo di studiosi hanno riportato alla luce. Grazie alla sinergia tra Cantiere Gela, la Casa del Volontariato e la Piccola Casa della Divina Misericordia, la città gelese offrirà ospitalità a dieci pellegrini in cammino già da alcuni giorni. Con la collaborazione della Proloco Gela e dell'associazione Geloi Trischelion si getteranno le basi per segnare tramite apposita segnaletica il percorso litoraneo della via francigena che passa da Gela e il supporto logistica ai pellegrini. Il gruppo dei camminatori della via francigena di Sicilia sarà accolto oggi dai volontari della comunità urbana di Cantiere Gela e sarà ospitato per una notte presso la Casa della Divina Misericordia. Alle 17 arriveranno in città, alle 18 saranno in Piazzo Umberto I e alle 19 è previsto l'incontro presso la Piccola Casa della Divina Misericordia. L'occasione servirà per fare il punto sulla via francigena in Sicilia e sulla tappa di Gela per provare a tracciare il percorso come avviene in altri paesi del mondo, dando informazioni e supporto logistico ai pellegrini che decidono di mettersi in viaggio alla scoperta degli altri e di se stessi. Si è svolta in una sala dell'Enea Gela la cerimonia di premiazione degli studenti che hanno preso parte alla prima edizione del progetto Alternanza Scuola Lavoro presso l'azienda del cane a sei zampe. Il percorso formativo è stato confermato per il prossimo anno ed esteso ad altri istituti della regione. Avviato anche il contratto biennale di apprendistato di primo livello per 20 studenti dell'Istituto Tecnico Morselli di Gela. Riconoscimenti sono stati conferiti per i cinque migliori lavori del progetto che ha visto la partecipazione di circa 200 studenti, testimoniando come sia possibile studiare a scuola e anche negli stabilimenti Eni. Il progetto pilota per Gela organizzato e gestito da Eni Corporate University è stato inaugurato il 3 maggio scorso e ha coinvolto gli alunni del terzo anno appartenenti a cinque istituti di istruzione superiore. Terminato il periodo formativo i ragazzi sono stati invitati a preparare un lavoro riassuntivo del percorso. Le prime cinque tesine valutate da una commissione composta dai docenti della realtà Eni presenti a Gela sono state premiate durante la manifestazione. Il programma Alternanza Scuola Lavoro coinvolgerà circa 1500 studenti nei prossimi due anni a livello nazionale con stage, laboratori, corsi, e-learning e visite di studio presso siti Eni e altri siti di interesse per il settore energetico. Gli studenti gelesi hanno partecipato a sessioni in cui sono state trattate tematiche tecniche gestionali proprio del know-how aziendale, nonché workshop di orientamento sulle competenze personali richieste per lavorare nelle grandi organizzazioni. Alle lezioni teoriche sono state affiancate anche le visite in campo presso la raffineria. Finalmente si crea una sinergia tra il mondo della scuola e il mondo del lavoro. Ormai non si può più improvvisare, ormai bisogna essere formati in modo intenzionale per inserirsi adeguatamente nel mondo del lavoro. I nostri ragazzi collocati in contesto aziendale danno delle performance inaspettate, molto, molto positive. È fondamentale che l'impresa capisca che ha un ruolo sociale, cioè quello di collaborare assieme ai docenti delle scuole alla costruzione del curriculum dell'alunno. Siamo riusciti a costruire un percorso formativo di otto giornate, estremamente ricco, per 200 ragazzi, per un totale di 16.000 ore di formazione, 31 docenti interni dell'ENI impiegati in queste attività. Quindi l'investimento è stato un investimento estremamente significativo. È stato loro anche spiegato quanto è importante in azienda riuscire ad agire dei comportamenti organizzativi positivi. Quindi la capacità di lavorare in gruppo, la capacità di comunicare, la capacità di gestire anche delle priorità, di rispettare gli impegni. Vogliamo aumentare il nostro impegno per il territorio, come dicevo prima, non soltanto nell'ambito dell'attività industriale, ma anche per altre iniziative. L'ENI non è solo una società, è una società che investe e che lavora nell'ambito industriale, ma ha una responsabilità verso il territorio sociale e noi siamo pienamente presenti in questo territorio. Abbiamo investito più di 300 milioni fino ad oggi, è una società che vuole abbandonare il territorio e non investe 300 milioni. È stato uno strumento che ha facilitato la motivazione degli studenti, la novità dell'ambiente anche dei formatori. Ha consentito loro di mettere anche a confronto ciò che avevano imparato a scuola con questo tipo di esperienza. C'è stato un arricchimento complessivo degli studenti, ma anche dei docenti e devo dire del dirigente. Ritengo che sia stato un arricchimento per il territorio. È un progetto assolutamente nuovo perché l'alternanza scuola-lavoro l'abbiamo cominciato quest'anno con gli alunni del primo liceo e del terzo anno delle scienze umane. È importantissimo intanto il raccordo col territorio e poi per i ragazzi che hanno una certa propensione per un certo tipo di attività. Questo contatto con l'Eni è sicuramente fondamentale perché li mette in condizione di capire come passare dalla teoria alla pratica. È sicuramente importantissimo perché mette i ragazzi in condizione di poter conoscere quelli che sono i requisiti necessari per una start-up. Quindi impossessarsi un pochettino tutto ciò che è indispensabile per mettere un'azienda. Quindi il contatto con il mondo e il lavoro è fondamentale per questi ragazzi. Tant'è che loro si applicano e cercano un pochettino di fare in modo di impossessarsi di questi requisiti, queste conoscenze che sono fondamentali. Innanzitutto ha permesso la conoscenza di una realtà industriale dal di dentro perché indipendentemente dai pregiudizi o dalla conoscenza positiva o negativa che i ragazzi potessero avere mai gli era stata data l'opportunità di entrare all'interno dell'Eni. Hanno conosciuto una realtà industriale, tra l'altro i ragazzi che sono i futuri cittadini di domani e quindi in qualche maniera con i lavori che hanno fatto, con l'idea, con gli input che gli sono stati dati hanno anche fornito delle idee che spero i dirigenti Eni potranno anche adottare. È importante uscire dalle aule e conoscere qual è il mondo reale. Molte volte le scuole riescono a dare un'ottima, un'importante preparazione teorica ma il primo incontro con una realtà industriale sicuramente è totalmente diverso. Però questo corso proprio di alternanza scuola-lavoro in realtà è andato un pochettino più avanti perché si è passato con la possibilità di come presentarsi a un colloquio, a un curriculum, di come sono le realtà produttive, cosa sono le gerarchie, i protocolli e quali sono i punti fondamentali per far funzionare l'organizzazione. Presidente, parte la campagna abbonamenti del Gialla Calcio, una nuova stagione in Serie D, una stagione importante, avete parlato di tre anni di poter raggiungere la Lega Pro. Sì, è un progetto sportivo che ci sentiamo di lanciare per il nostro pubblico, per dare un riferimento preciso. Noi quando abbiamo iniziato con l'ultimo progetto di tre anni due anni fa abbiamo detto che in tre anni volevamo la Serie D, abbiamo vinto due campionati, anzi tre di seguito e abbiamo anticipato di un anno. Quest'anno ci sentiamo di dire che in tre anni vogliamo raggiungere la Lega Pro e credo che ci dobbiamo organizzare tutti. Uno degli aspetti che più ci sta a cuore è il legame col pubblico, con i tifosi, con gli spettatori che devono dare un segnale forte alla società. Inutile negarlo. La presenza del pubblico, la loro decisione di comprare l'abbonamento, sarà la misura della forza del nostro progetto. Presidente, il gel a parte con una nuova campagna abbonamenti, prezzi tutto sommato abbordabili, la città deve essere vicina a questa società? Sicuramente noi ci auguriamo che la città capisca che una squadra di calcio non è semplicemente il passatempo della domenica, ma può essere anche un veicolo per una maggiore diffusione nel territorio dell'esistenza della città di Gela, intesa nella sua globalità. Lo siamo stati nel passato, il progetto di quest'anno è di ritornare ad essere il veicolo anche di conoscenze e di comunicabilità nei confronti dell'esterno di ciò che oggi anche la realtà gelese può essere nel mondo del calcio. Noi ci auguriamo che la gente risponda, sapendo che da parte nostra ci si farà il massimo per poter dare quelle soddisfazioni che la gente merita. Assessore, innanzitutto partiamo da un dato, i primi abbonamenti saranno quelli dell'assessore e quelli del sindaco Domenico Messinese, poi il resto l'amministrazione sarà vicina a questa società? Ovviamente come esempio nei confronti di tutta la collettività i primi che faremo l'abbonamento saremo noi componenti dell'aggiunta e poi faremo tutto quello che è impossibile per poter dare delle infrastrutture al gelacalcio e un aiuto al gelacalcio per poter portare avanti il nome della nostra città nelle varie piazze in cui sarà coinvolta in questo campionato di Serie D. Grazie a tutti.